Comincia Grazie In attesa di istruzioni Grazie Forze nemiche in vista Avvistato incrociatore nemico Caccia torpedista Individuato Dritto sul bersaglio La nostra squadra In vantaggio Caccia torpediniere nemico Colato a picco Corazzata nemica Individuata Caccia torpediniere nemico Individuato 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 Allarme incendio. Il cacciator peniere nemico è saltato in aria. Problema risolto, signore. La nostra vittoria è vicina. 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 La nostra vittoria è vicina.